Allora, a proposito dei rimpianti, io perché poi adesso qui ci piace anche giocare, fantasticare, perché poi nella carriera di Stefane i più grandi rimpianti con la maglia dell'Inter sono il 5 maggio che abbiamo già citato e la doppia semifinale di Champions con il Milan perché poi puoi uscire anche da una semifinale di Champions, però non è accettabile uscire con due pareggi e con quella modalità lì, quindi rimane la mano in bocca. Tu hai giocato solo la partita di ritorno, però se potessi tornare indietro tra il 5 maggio, se avessi una singola opzione, tra il 5 maggio e la semifinale di Champions, quale rigiocheresti delle due? 5 maggio. Sicuro, 100% 5 maggio. Anche perché poi lì cambia tutto, perché io sono convinto, e questo l'abbiamo detto tante volte anche con il Monarca, qualora voi aveste vinto, Sedor-Feronaldo probabilmente sarebbero anche rimasti. Sì, dovrebbe cambiato tante cose per il futuro dell'Inter dopo, perché il 5 maggio ha fatto malissimo ai giocatori e anche ai tifosi. E anche oggi parlo con qualche tifosi che non hanno mai dimenticato questo giorno. E questo giorno rimanerà sempre a vita, possiamo sentirsi tra 20 anni, parliamo sempre del 5 maggio.